Ingiurie ed intimidazioni prima, aggressione fisica poi, ed il tutto sarebbe iniziato a fine 2017. Per questo i carabinieri della stazione di Oppidoma Mertina, in provincia di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di una donna di 49 anni e del figlio di 25, responsabili dei reati di atti persecutori e lesioni personali a danno di una donna. Negli ultimi anni la donna è stata vittima prima di varie minacce, i due infatti le avrebbero promesso di danneggiare l'autovettura e addirittura di sfregiarle con l'acido. Poi dalle minacce si è passate ai fatti. La donna infatti è stata gradita fisicamente con spinte, pugni e perfino un bastone, tanto da costringerla a ricorrere alle cure mediche. Alla base dell'accaduto problemi di natura sentimentale. Arriva ora un provvedimento che mette fine a questa escalation che aveva portato la donna a modificare le proprie abitudini di vita.